Lunedì e martedì prossimo la CISL della Spezia celebra il suo diciottesimo congresso territoriale, una organizzazione matura ed in salute che si appresta a tracciare le linee guida per i prossimi anni. È una CISL che cresce, siamo cresciuti del 5% negli attivi e ci attestiamo a 22.658 iscritti. È un percorso che è partito dai luoghi di lavoro, rinnovando tutto il gruppo dirigente, appunto a partire dai delegati, con i congressi e le assemblee territoriali di federazione e che si manifesterà appunto lunedì e martedì con il rinnovo delle cariche confederali. Una relazione introduttiva articolata, quella che il segretario uscente Antonio Carro proporrà agli oltrecentro delegati in rappresentanza dei lavoratori e pensionati iscritti alla CISL della Spezia. Non mancheranno i riferimenti all'Europa, le implicanze della globalizzazione, alla necessità di misurarsi con l'innovazione tecnologica, ma saranno i temi locali il fulcro della discussione. Ci sarà il punto su quelle che sono le criticità che attraversa il nostro territorio, ma anche il lancio di 4-5 proposte sugli asset di potenziale sviluppo per la nostra città e per la nostra provincia, che sono il polo della difesa, il turismo, il commercio, il porto, la logistica, la green economy, la green energy e anche ovviamente l'economia del mare intesa come blue economy. Quindi sicuramente un territorio che ha delle grandi opportunità. Noi crediamo proprio di lanciare questo che dovrebbe tradursi in un patto vero e proprio per lo sviluppo, per dare risposte, per dare anche speranza ai tanti giovani e meno giovani che oggi purtroppo, lo ricordo, sono ancora senza lavoro o si trovano espulsi dal lavoro. Un capitolo a parte sarà dedicato alla sanità locale. Da anni stiamo vivendo delle grosse criticità, dalle lunghe liste d'attesa a tutto il problema dell'ospedale. Insomma, quindi abbiamo visto positivamente, diciamo così, finalmente la partenza dei lavori per la costruzione del nuovo felettino. Non ci appassiona il dibattito su DEA di primo o secondo livello, perché noi crediamo in quella che è oggi una sanità moderna, quindi integrata, che si prenda a carico il paziente, dalle acuzie alle patologie croniche, ma anche, diciamo così, poi al post e quindi serve anche una rete, diciamo così, sociale e sanitaria che appunto dia risposte, diciamo, ai pazienti. Il congresso si preannuncia ricco nel confronto ma unitario nella sintesi e dal congresso uscirà il nuovo gruppo dirigente della CISL territoriale. Tutto avverrà alla presenza dei big regionali e nazionali. Viene il segretario confederale Giovanni Luciano, della segreteria confederale nazionale, ovviamente sarà presente il segretario regionale Antonio Graniero e quindi sicuramente abbiamo una presenza assolutamente qualificata.